Abbiamo predisposto una panca in modo che possiate giocare seguiti. E' uno sport paralimpico e il terzo sport più visto alle paralimpiari, dopo il basket e il rugby. Ed è uno sport, l'unico sport, che si gioca con le bocce, sia un impianto paralimpico. Ma che alle Olimpiadi le bocce non ci sono. Probabilmente arriveranno a Parigi, quindi nel 2024. Quello che avete visto finora sono giochi propederfici per aumentare le capacità delle persone. Quindi avete visto far centro sulla pallina, avete visto togliere la palla che per la borsa era il birrino più piccolo. Adesso, aumentata la difficoltà, c'è il salto con ostacolo per centrare la palla in campo. Al termine di questa piccola esibizione, faremo una partita tra i giocatori e poi, chi vorrà provare, vedrete che le bocce che usano sono particolari. sono bocce in cuoio, si possono schiacciare, all'interno sembra che ci sia della sabbia e più si manovrano, più si cambia la densità e si modifica il roccolamento. Quindi i giocatori più abili, secondo le situazioni di gioco, modificano la capacità della pallina di correre o frenare secondo quanto lo manovrano. quindi è una complicazione in più. Dopo chi lo dovrà provare, dovrà fare lo benissimo. Il campo normalmente è lungo 10 metri, si gioca su 6 postazioni, è come giocare a bocce tutto il resto, c'è un pallino, ognuno ha le sue bocce, di gioco individuale o di squadra. L'individuale è facile. I due interi di squadra sono in due coppia e quindi le regole sono più o meno quelle che giochiamo anche sulla spiaggia. Quindi, Giulia, prosegui pure, così facciamola fare tutte.